spazio cinema le novità del grande schermo allora per quanto riguarda lo spazio cinema cara Silvia oggi parliamo di Felicemente Sposi un film che noi abbiamo visto per te regia di Lello Arena allora non solo come sta andando l'andamento per il pubblico non solo a Roma hai seguito questo film che notizie c'hai? Allora a me loro piacciono molto come coppia di comici perché le seguono da Medellin Sud e sono fortissimi so che comunque sono anche spostate nella vita vera e mi ha colpito il primo film che hanno fatto loro mi sembra tutti alla regina come era a Londra tutti da Londra alla regina dove comunque c'erano anche loro e le pare ne hanno fatto un altro che è la vita qual è battita mi pare che comunque dipendeva dalla loro storia e questo non l'ho visto però sicuramente nel momento che ha fatto L'Arena, la regia sicuramente sarà un film molto comico e molto però anche verso semplice però con qualche emozione in più perché comunque esalterà le emozioni anche di Napoli sempre nel modo di vivere un altro cento gradi la vita sempre in maniera positiva e poi comunque loro questo qua comunque dovrebbe essere il loro terzo film comunque loro nascono da comici e non è facile per tutti i comici riuscire a fare uno più film. Certo infatti il film insomma riproporre le le vecchie battute che sono nella dinamica tra moglie e marito insomma e quindi con la sapiente regia di L'Arena è una dinamica di coppia e noi la invitiamo ad andare a vedere perché comunque il film è abbastanza carino e quindi rende per gli appassionati della coppia comica certamente è un film da vedere e anche ben girato